Si ribalta con l'auto prima del ponte a Centinarola di Fano. L'incidente è avvenuto autonomamente in via Brigata Messina poco dopo le ore 9. Un anziano a bordo della sua lancia Ypsilon ha sbandato sulla destra salendo con la ruota sulla parte iniziale del guardrail, ribaltando di conseguenza la vettura su un fianco. L'88enne, residente in zona, è stato soccorso ed estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Fano, poi prelevato dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Il ponte, che sovrasta l'A14, è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa un'ora. Il tempo necessario per le operazioni di sgombero della sede di stradale da parte della polizia locale.